ma io non mi è che mi tiene voto ma io non mi devo fare mai porta a putzana mi ha 40 euro perché sono da EIC via, 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 via porta a putzana ma che mi sono buono non mi sono andata da rendita no per me no venga il senso 40 euro perché i raggi su macchia con quello di queste frate no quel genere su come non ti puoi non ti puoi no non ti puoi si o canaro ma vai all'orata pura 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 non devi che ti metti qua oh my ma è qua è qua sta la tendere Ma che fai? Che mi hai detto in questo perché sono del libro un gruppo? Non mi hai detto in questo! Un altro ricordo! Ma qui sei che mi hai detto? Ma mio caralho! Perché io... Stavio lì! Stavio lì! Stavio lì! No! Io ti ho detto! Stavio lì! Stavio lì! Stavio lì! Stavio lì! Stavio lì! Stavio lì! Perché un giro può amie! E' da un papio? Ehi! E' un giro... ...è un giro... Sbagliato Dio Porco! Dio maschio, una brutta persona, te calo e vai, Dio cazzo, me lì di sotto. Pezzo di merda. Pezzo di merda. Dio cazzo! Dio cazzo! Niente a fare! Dio boi! Ciò di smontare un'attimo con una epifarmacia, dio cazzo, e vieni a mettere le tue buzze o la merda! Porco Dio! Niente a fare! Troppo i primi! Alla ecco qua la tenuta! Pesce! Non è terribile! Che disegno a piacere! Imbirag Uno, il mio marido, veloce! Manifino! Unina, il mio marido, il mio marido!